Poi ti attieni subito, perché ti attino il veloce, perché la carta è tra le due botte No, però è da tre, è sicurezza, capito, bam bam bam, perché non so sicuro di queste carte non mi, ma questa è proprio a 2.000 cm Perché l'ho tirata un'ora più calda, tre, 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 un po' Ci sono 30 metri da qui, ci sono 30 metri da qui Alla prossima Alla prossima